Cattadina I, quindi in fuoristrada a Onosi del deserto e dal bellissimo canyon colorato. Ed eccoci al canyon colorato. Il suo percorso si rivelerà non proprio facilissimo. Ah, questo è stato il terremoto? Sì. Bello, Luciano. Non è anche. È questo, certamente, il canyon più bello da me visitato. Strettissimo, con paretti verticali alte 70 metri e rocce dai colori tipo Missoni. Qui mi voglio! Passaggio, uno. Voilà! Hai detto che ce l'abbiamo fatta anche noi? Saremo bravi. Sì? Sì. Forza, Luciano. Grazie. Sì. Non vuoi aprire. Scusa è certo. Ma lui fa il finino e poi... Dopo mi va la coppia, lui fa la forza. Sì, lui fa la forza. Dive venire per forza. Eh, una cosa. Scusa. Scusa, così almeno. La vedi, lo vedi, il rialzo? Sì. E' tutto il vento, non bello. Ma quando arriviamo ci rifugiamo. Fivolare! Sì! Grazie! Adesso vedete davanti qui. Piano piano. Sì, vedete davanti? Tutti e due? Fivolare! Bene! Piedi? Sì! Sì! L'importante è non picchiare la destra! Piano, bravo, bravo. un po' un po', un po', un po', faccio ecco la, bravi da sinistra vero? salta guarda, guarda, guarda guarda, guarda secondo me lo no no